vediamo con questo video tutorial come fare una domanda di utilizzazione per esempio per la scuola secondaria di secondo grado andando su selezionare un ordine di scuola si clicca su seleziona si sceglie scuola secondaria secondo grado e poi comparirà per esempio l'utilizzazione provinciale teniamo conto che l'utilizzazione può essere richiesta per i docenti che sono stati ad esempio trasferiti in ufficio o a domanda volontaria condizionata perché sovrannumerari facciamo proprio questo tipo di esempio andiamo su inserisci e ci troviamo nel prospetto della domanda iniziamo a compilare la propria domanda attraverso le sezioni ad esempio c'è la sezione c che ci dà direttamente il punteggio spettante per l'utilizzazione come si inserisce tale punteggio ti prende il punteggio della gradatoria d'istituto per l'anno 2022 2023 e si aggiunge l'anno in corso e un anno e probabilmente di continuità del servizio per esempio se una persona aveva 100 punti in gradatoria aggiungerà 106 punti e due di continuità 108 punti i due di continuità se è il docente entro il quinquennio della della continuità in tale scuola chiaramente non dovrà il docente che si era diciamo mobilitato d'ufficio o a domanda condizionata non dovrà compilare nessun altro nessun altro diciamo casella di questa sezione e per cui può passare sicuramente alla sezione di delle precedenze per la compilazione della sezione di delle precedenze si consiglia di andare a vedere proprio il video tutorial sulle precedenze fatte per le assegnazioni provvisorie non si discosta assolutamente da questo anche per le utilizzazioni queste sono le stesse le precedenze come per le assegnazioni provvisorie per esempio se uno avesse un figlio di età inferiore ai sei anni nella casella 16 metterebbe sì e avrebbe il diritto a questa precedenza fatto questo è importantissimo la sezione è la sezione è invece è per indicare la scuola da cui è stato trasferito d'ufficio o a mobilità condizionata domanda condizionata deve scegliere la scuola di precedente titolarità che sarà poi la prima scuola che metterà nelle preferenze ammettiamo ad esempio che la scuola di precedente titolarità possa essere stata una scuola qualsiasi mettiamo per esempio i s inaudi di alvaro si clicca qui si dice quale tipo di posto di titolarità avesse o comune o sostegno comune e si può anche chiedere di essere messa a disposizione nella scuola di precedente titolarità indicando sì oppure no detto questo a questo punto si può anche avere la conferma se si è stati già utilizzati in passato in una scuola di chiedere la conferma per l'utilizzazione della medesima scuola in cui si è stati utilizzati chiaramente inserendo in quale scuola si è stato utilizzati nell'anno precedente infine è molto importante indicare perché altrimenti il il sistema non darà non consentirà di proseguire la sezione h dove si indica la tipologia di posto per cui si chiede l'utilizzazione per esempio il posto normale facendo appunto salva noi andiamo a salvare con successo la domanda speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri lettori seguiteci ancora nei nostri canali social e nel sito www.tecnica e la scuola punto it perché tratteremo temi come questo e anche tanti altri altre tematiche arrivederci e a presto vediamo come scaricare dal sito del ministero il modulo per le assegnazioni provvisorie utilizzazione del personale ATA per l'anno scolastico 2022-2023 e vediamo anche come compilare per l'assegnazione provvisoria degli ATA questo modulo appunto andiamo sul sito del ministero dell'istruzione sul campo di ricerca basta inserire utilizzazione assegnazioni provvisoriata fare clic e si va proprio in un link che da accesso a questa pagina in fondo tra tutti i moduli del personale docente il personale ATA troviamo domanda nella numero 15 domanda di utilizzazione assegnazioni provvisori del personale ATA cliccando su questa su questo link si va a scaricare proprio il modello di domanda per utilizzazione assegnazioni provvisori del personale amministrativo tecnico e ausiliario una volta scaricata la domanda si deve solo compilare è una domanda un modello cartaceo che va compilato e poi inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'ufficio scolastico regionale ambito territoriale provinciale della sede dove si fa richiesta di assegnazione provvisoria o utilizzazione vediamo un po in grandi linee come si compila questo modello per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria chiaramente la sezione A si indica assegnazione provvisoria dunque si mette una X su questa casella si indica la provincia per cui si richiede assegnazione provvisoria come sigla e poi per esteso tutta la provincia si riempie la sezione B sui dati anagrafici il cognome nome dato di nascita e dunque il luogo di nascita la provincia di nascita e la sigla della provincia di nascita dopodiché la residenza indicando comune la provincia per esteso la sigla della provincia la via della residenza attuale il codice di avviamento postale della residenza attuale e il telefono la situazione di ruolo riferita all'1 settembre 2022 dunque il profilo di titolarità per il personale che fa riferimento ai tecnici si mette il codice di area di titolarità si fa la denominazione in chiaro il comune di titolarità il comune di servizio una volta compilate queste sezioni la sezione c non va compilata perché riguarda esclusivamente le utilizzazioni si compila la sezione di con le precedenze e dunque si fa riferimento all'articolo 18 del contratto collettivo nazionale integrativo per l'utilizzazione del 22 23 e per esempio facciamo un esempio specifico se si avessero figli di età inferiore 6 anni si clicca sul punto 7 a si per le interprovinciali anche i figli di età inferiore 12 anni ma superiore e 6 danno un diritto di precedenza si clicca 7b si si fa si seleziona si detto questo non la sezione non va compilata invece importantissima la sezione f dove si inserisce il ricongiungimento al coniuge al convivente o al familiare nel comune di e si inserisce il comune poi si inserisce il numero di figli età inferiore sei anni valgono diciamo un punteggio superiore rispetto al numero dei figli età superiore ai sei anni ma non superiore 18 dove si indicano quanti figli siamo nella casella 16 detto questo poi si passa alle preferenze che se ne possono esprimere fino a 15 dove si inseriscono i codici o delle scuole o del comune o del distretto e nel caso dell'interprovinciale anche della provincia speriamo che questo video tutorial sia stato utile a chi deve presentare domande di assegnazione provvisoria per il personale ata arrivederci e a presto grazie a tutti grazie a tutti